Un'insegnante precaria da sei anni è una giovane disoccupata che svolge la voce altuari. Maria Marzane e Maria Lucia Lorefice sono due volti nuovi del Parlamento italiano, appena elette alla Camera per il Movimento 5 Stelle in Sicilia. Intervistate prima del voto davano la loro disponibilità ad accogliere le buone idee. Il modello siciliano, con i 15 consiglieri all'Assemblea regionale, disposti a dialogare sui singoli provvedimenti, potrebbe essere una soluzione per trovare una stabilità di governo anche a livello nazionale. Noi sosteniamo le buone idee, quindi non abbiamo idee né di destra né di sinistra, siamo con le buone idee e fin quando verranno proposte delle buone idee che comunque rientrano anche nei nostri principi, nelle nostre ideologie, perché non sostenerle? Il Movimento 5 Stelle, con il 34,5% dei voti nella circoscrizione Sicilia 1 e il 32,7% nella circoscrizione 2, si conferma primo partito in Sicilia. Credo che il Movimento 5 Stelle possa dare veramente delle risposte ai cittadini, alle loro esigenze, alle loro aspirazioni, quindi ci consente veramente di ricredere nel futuro.